Il Forum Abruzzese dell'Acqua ha presentato una richiesta di accesso agli atti presso la prefettura di Teramo e al Ministero dei Trasporti per capire cosa si stia facendo, con quale obiettivo, con che mezzi e in che tempi rispetto alle criticità riscontrate sul viadotto Cerrano della 14, da poco dissequestrato dalla procura di Avellino. Il Forum dell'Acqua vuole anche capire come si intende affrontare nel medio e nel lungo periodo la situazione della frana che incombe su una delle più importanti infrastrutture italiane, visto che le carte della regione evidenziano l'estensione dei movimenti franosi nell'area circostante le pile. Intanto, sottolinea in un comunicato il Forum dell'Acqua, da qualche giorno si sta finalmente lavorando alacremente sulla pila 1 del viadotto Cerrano, come dimostrerebbero le immagini raccolte ieri dagli ambientalisti in cui si vedono lavori di perforazione per quello che sembra il posizionamento di micropalli di consolidamento. Questa notte e fino alle 5 di domani il viadotto sarà chiuso nuovamente per consentire alcuni lavori e dovrebbero essere anche installati i sensori profondi per i monitoraggi completi richiesti dagli ingegneri del Ministero in aggiunta a quelli già esistenti. Vogliamo sottolineare, continua il Forum dell'Acqua, che sulle barriere New Jersey lo Stato, fin dal 2015, ha individuato il problema nell'irregolare procedura di sostituzione degli ancoraggi, censurabile anche secondo la Procura di Avellino. Una querelle che ha portato via 5 anni con ben due pronunciamenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma con sostituzioni secondo le richieste del MIT che ancora a giugno del 2019, a leggere il decreto del GIP di Avellino, autostrade avrebbe respinto. Quello che manca, conclude l'Associazione Ambientalista, è una riflessione profonda sul reale stato delle infrastrutture del Paese, dove si continuano a prospettare grandi nuovi interventi senza garantire la manutenzione dell'esistente. E sul nuovo, invece di pensare a terze corsie, continua ancora il Forum dell'Acqua Bruzzo, bisognerebbe investire eventuali danari pubblici nel trasferire il trasporto delle merci su rotaia.